Adesso sono troppo curiosa del pubblico speciale però. Ok, vorrei cancellare tipo il salvataggio. Per sicurezza, perché non vorrei che non mi... oddio, mi mi segna tutti e tre iniziati, vabbè. No, perché voglio rifarmi il tutorial, immagino che la nostra voce si senta. Sì, perché prima ero attaccata a questo telefono. A meno che il pubblico speciale non sia tu, non sei parte del pubblico. Ma l'ho messo l'altra volta. Ma sai che non mi dico la tua assoluta bene? Se no, ma... Vabbè, dice che comunque lo posso cambiare. Il pubblico adulto. Ho capito cosa intende. Ah, ok. Quindi si gioca così. Va bene. Fin qui ci siamo. Sto giocando già peggio dell'altra volta. Un stick non è roba mia. Un stick non è roba mia. Un stick non è roba mia. Boh, mi porta l'arma gatto. Sì, era quello che intendevo, non avevo più nella clipboard il messaggio di mercoledì. Il messaggio di mercoledì. Ah, sì, per postal. Non so come mai sia rimasto messo games più demos. Giorgio God of Pills. L'avevo già sconfitto questo? No. Cazzo, è difficile lanciare le granate in combattimento. Anche perché sono messe con la X. È un tasto scomodissimo. Sa che l'ho finita. Che schifo. Che schifo. Poi voglio cercare di capire se magari ti hanno flaggato il canale. Non so. No, non penso. Penso che sia niente di cui preoccuparsi onestamente. Ma magari sono io che mi porto un po' troppo. Un attimo. Come? Magari sono io che mi porto un po' troppo. Beh, ma anche se fosse mi capiterà di portare i giochi dal contenuto adulto, non è sbagliato. Do che mi sono distratto e perso? No, ho cambiato livello. Sono a livello 2. Ma guarda un po', ti servono un chiave. Ok, qua non c'è. Non c'è combattimento. Voglio una chiave. Quelle fiamme sono mie. E' quel cosino che ci ha oppresso. Cazzo ho preso danno. L'ho trovato un altro mezzo solare. Niente, è finita. Niente, è chiaro. Non guarda un po'. Aiuto. Mi possono morire questi bambini? Nooo. Io non ho capito perché ho un gatto. Ah, forse le uova si schiudono. E diventano bambini, ok. Ha tutto molto più senso adesso. E' cinferdi, senti, ok. Sì, sì. Devi far si chiudere le uova, ma che storia. Va bene, c'è l'aria. Mi piacciono un sacco i colori. Sì, sì, l'avevo notato, è molto neon. Il neon poi nei videogiochi, oltre ad essere molto bello, è molto utile per una questione di visibilità. Sì, è molto leggibile. Ma questo è Pokémon. No, chi l'ha detto sempre il boss? Sì. Ma guardate che storia hai. Sono io il diritto. Ok. Karsa. Crazy kill kill. Trova un sabo e me ne ho messo. Non è proprio Pokémon. Cazzo, forse dovevo trovare il modo di cambiare granata. Ho dato fuoco al barile? Potenzialmente. Si chiama Neon Abyss. C'è anche su Switch. Io l'avevo trovato in versione demo su Switch. e non mi aveva convinto particolarmente. Non ho granate. Non posso raccogliere quei pauli. Non ho chiavi. C'è il simbolo degli illuminati lì che non ho idea che cosa rappresenti. C'è una chiave. Se l'avessi una granata. Credo di aver visto l'annuncio. C'è una granata. Se l'avessi una granata. Ho visto l'annuncio. C'è una granata. No, aspetta. Ma mi dice che ho tre chiavi. Sì. L'annuncio su Switch, dici? Allora io mi posso te le portare qua. E' uno di quei giochi dove sei tu praticamente. Ora te lo faccio vedere. Esatto, l'annuncio Switch. Sì. 10 monete per aprire questa cosa. Ne ho 62. No, è fallito. Adesso è riuscito? Buona. Ok. Sto attento a non rompere la cesta. Vedo. Bene. Molto bene. Allora dicevo questo è uno di quei giochi dove. Se io premo il tasto per saltare. No, che non lo fa. No, se io lo premo anche poco prima di atterrare. Lui comunque salta. Se lo comincia a tenere premuto. No, niente. Era una piccola cosa. Ci sono dei giochi che se tu premi in aria. Poi quando atterra salta immediatamente. Non mi promette benissimo. Mi sa che esplorerò nell'altra direzione. Hai due granate. Sì, ho visto. Le ho prese. Direi che esploro qua. Ah. Non ti vai a prendere le casse. Hai ragione. Eh. Poi lo ti ho dato i due granate. Allora. Potrei prendermi le casse oppure prendermi qualcosa qua. Oppure entrambe le cose. Dammi un attimo. Vediamo se sì. Close enough. Perché non me lo fa. Ah, perché sono già al pieno. Aspetta un attimo. Sono già al pieno. Sono già al pieno. Sono già al pieno. Sono già al pieno pure di vita però ok. Perché io consumo questi cristalli per attivare l'abilità mia che è il palloncino. Ciao a tutti. Ma do che stanchezza. Non ce lo dire. Sono giornate di cazzo che c'è il tempo che cambia. Buonasera comunque. Doc. Ma dopo quella cassa? No. Dopo quella cassa e l'altra cassa c'è un'altra cassa mi sto chiedendo. Ah no non l'ha finita. Comunque questa è praticamente una treasure mesa. Avete dovuto aprirla subito. Bellina. Emerald bracelet o rainbow candy. Rainbow candy. Siamo al pride monte l'ultimo giorno. Però anche il verde è bello. Però si hai ragione. E' un ritenio il pet e volks e you get a gift. Ok. L'avrei dovuto prendere decisamente prima. Però. allora io ho ancora una granata. No. Che spreco. Quanta vita. Vabbè. Scappano. E' proprio. C'è un sacco di soul art praticamente. Sì. Che sembrano più scudi. Beh. Credo che siano scudi. Sì sono scudi però alla fine c'è gente che la prima volta che ha giocato a Isaac la chiamava armor. Perché effettivamente solo è quello che è solo solo art. Viaggio Antonacci. Perché viaggio Antonacci? Chi l'ha detto? Il boss. Sembra più un'uscita stile brodino. Playful Kitty con l'ex. Uh. Non so cosa fanno sti moldi hearts. Però. Oddio un clown. Ah. Due clown. Io scema che guardo anche. Allora. Quanta vita c'è. La canzone di Viaggio Antonacci. Sì. Però guarda io sono scaltro. Abbiamo il nostro dark bum. Sì. I cinesi. Non lo so. Cioè non capisco cosa sono questi. Perché l'ha spiegato ma non l'ho letto. E' il light bum perché è chiaro. No. Se prendo abbastanza di questi mi aumento. Bella. La vita massima. Ok. Ma bellissima. Ma bellissima. Hai dei cuori indietro. Lo so ma non so se riesci a raggiungerli. Adesso però. Bello sto gioco. Sì è bello. Sì non sembra. La grafica è bellina. Uh ci arriva. È proprio come. Sei una testa di minchia. No. No io non la uso il jetpack. Mi devo fare il boss. Probabilmente a breve. Ecco il boss. Ormai Eric è esperto e procede spedito. Eh. Isaac fa scuola. Sì diciamo che. Non sono proprio nuovo al genere. Però. Sto imparando piano piano. Sembra Isaac reinventato ha detto il boss. Oh mamma. Bello. Ok. Lo stare attento che magari me li mangia anche quando mi servono. E' il light bum. E' bellissimo. Ed è un gatto. Sì. Un sacco di vita. Sì. È uno sulla tua. Questa sembra addirittura. Una challenge room. E questo sarà un negozio. Sì. Mi chiede tre cristalli. Mi chiede tre cristalli. Ho 75 monete. Sono tante. Sono boh. Proviamo questo. Vi seguo dal letto. Sono troppo stanco. Ma ci sono. Tranquillo. Riposati. Questa immagine mi piace molto. Oh. Ok comunque tranquillo. Che storia al mio paleno. Più o meno. Va sui toni del giro. Se lo prendo succede casino. Vai. Non lo prendo. Lo attivo. Per un attimo. Mi sembra di sentire la musica di Isaac. Delle challenge. Sì. La porta che si chiude. Sì. Abbiamo trovato il nuovo Isaac. No ti prego. Non lo direi manco per scherzo. Basta. Finita. Allora. Quando finisco. Isaac. Ho già deciso. Che mi dedicherò ad Eides. Senti. Io ci entro al negozio. Non ho idea di che cosa ci posso trovare. Mi dà fastidio. Dover pagare. Cristalli. Ehi. Prima visto cosa c'è. Eides. Ha detto il boss. Esatto. Esatto. E quello che. Allora. Il rumore dei passi. E pure stereofonia per l'altro. Dovrei prendere la white fox ma non mi dispiace l'arma che ho. La testa di leone. Che cazzo è? Io non lo posso saperlo. Aspetta. No. Dai. La wiki no. Dai. E' la prima run. E' il mio primo giorno. Qua 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 qua. Qua più pesi ti ha. Qua più damage ti ha. Qua più damage ti ha. Va bene. Bello. Hai fatto bene ad entrarci. Si. Sto esplorando tutto il piano. Ma adesso ci tocca fare il boss per forza. Boing boing. Kimmy. God of idols. Non ho abbastanza cristalli per. Per volare. Già. Cazzo. Mi ha stretto nell'angolino. L'ho fatto. C'è. Se ha fatto gli attacchi in un punto che non potevano farmi male. Quindi questo è un po' di tutto. Potrebbe essere. Facciamo vita. In crazy your heart container. Ok. Ne ho già tanti ma. Schivono un panno alla fine. Visto che non so giocare penso che avere più vita sia la cosa migliore. Ma. Is always better comunque. Come diceva lì. Le cristalli. Per entrare al negozio. Solo 19. Guardate riflessi. Bello riflessi. Zombie sister. Oh. Poi son bullets. Ma stra bellina sta cosa tipo Yoshi's Island con tutte le uova al segreto. Lì c'è una challenge. Forse è meglio di no. C'è ancora qualcosa di lì. Sembra il papà che porta al parco i cuccioli. È la stessa cosa che avevano detto i miei nonni quando mi hanno visto giocare a Yoshi's Island. Sembra la gallina a chioccia con tutti i pulcini dietro. Eh sì. Un paparino fiero. The family member. Non puoi ordinare le uova come fossero Pikmin. Chi è del boss? Non credo. Mi piace il fatto che sono passami in termini spectral quindi non rimangono incastrati tra porte e ostacoli. Sì. Mi è fallito l'hatching. Una non si è schiusa? Esatto. No. No. Mi piace i movimenti che fanno. Mi piace i movimenti che fanno. Sì. Ho capito. Sì. Sì. Perché non si apre quella cesta. Ma magari la devi bombardare. Non so. Sì. Sembrerebbe. Se chiavi. Una chiave. C'era dentro una chiave. Oppure devo sparargli ma non vorrei che sparandola distrugga. Non lo so. In effetti anche bombardandola distruggi. Eh. Direi che hai più chance di distruggerla bombardandola. Oh. C'è un metaslag. No. Secondo me la devi bombardare. O smitragliare. Non lo so. No. E' una cesta di pietra di Isaac. Sì. Abbiamo fatto finta di non saperlo ma è quello. O chi cazzi. L'unica cosa che mi preoccupa è che dice che appunto ti possono morire i bambini. Jack. Vabbè. Sono tutti famigli. Sì. È il gioco dei famigli. È Lilith the game. Non lo vengono. Lilith però spara anche lei. Già tra l'altro. Aspetta. Un punto interrogativo. Capisco l'appeal di questo gioco comunque. non ho capito però ok no è scomodo lanciare doc non ho sentito la risposta perché è partita la pubblicitosa qual era la domanda? non puoi ordinare le uova come fossero pikmin? presumo? no no penso che sia probabilmente i più recenti stanno più davanti e le uova stanno sempre per ultimo non lo so credo sia anch'io che sia in ordine cronologico si ma comunque sia non ce lo vedo come gioco in cui ha senso ordinarteli Alien Baby Alien Baby X si si preciso ma tanto non ricorderò mai il nome oddio oddio che è successo? mi sto un po' confondendo check 2 ok a proposito attenzione perché? perché vogliono mettere i clown nei giochi? magari lì non ci passi eh? non promette benissimo ma si sa che devi disabilitarlo oppure devi prendere danno per passare può essere può essere aspetta però che mi rappresenta quella cesta di una cesta spinata che ti fai male se la apri ok son coglione un pochino puoi spingere questo no le granate se gli spari non esplodono rimane tutto così? rimane tutto così ok allora non sono stato beh non sono stati in diversi punti ho un uovo e un altro uovo prenderà la challenge non la vedo benissimo però l'ultima volta mi ha dato delle belle ricompense mi sembra quindi adesso è metà slug? si quando ti avvicini diventa metà slug madonna ho difficoltà perché a volte viene da sparare ai miei no si perché nel marasma generale mi confondo anche perché non è che seguono solo me sono liberi di scostarsi file devil e tutto sommato penso di essere riuscito a impari in termini di vita potrei andare direttamente dal boss non so se no qua cosa c'è in negozio ho dieci chiavi infatti quali cristalli però se ce li ho sparsi per la mappa quindi me lo posso prendere potrei provare a bombardarlo ma no non so se comprarmi qualcosa perché non so se questo qua se me lo metto mi toglie la testa di leone così come non so se la black widow sia meglio di quello che ho forse il contorno me lo indica no ma magari il contorno indica il tipo di cosa che non so l'altro non so allora cristalli sto pensando potrei provare a attraversare quella cosa con il laser metti che devo perdere un cuore per entrare buonanotte a tutti sono troppo stanco buonanotte roccia buonanotte alla prossima sono sveglia dalle 5 di mattino mamma mia la musica tecno fa parte del concert beh penso proprio di sì questa è una treasure dovevo andarci subito perché non l'ho fatto bullet crown oppure demon wings ma io c'ho già il palloncino mi sembra buono ma non ci sono i comandi davanti al commentario controlli switch item perfetto poi character skill no non so che non sia cancel com'è va bene proviamoci ok penso che sia stata una buona idea mi sono insonate che ho comprato praticamente vabbè boss post time ma giusto per vedere se per caso ne può valer la pena non in questo caso specifico però però può capitare magari per disperazione mettiamola così mobile videos perfetto aiuto non posso tornare a pieno terra cosa posso prendere cos'è l'altro che è la fortuna no non mi sembra però lo prendo adesso vedo firepower dovevo prenderlo anche prima mi sa sbloccato una cidna ottieni 8 contenitori di vuori è un'otteroccia senza il punto di domanda è un livello punto interrogativo non è un livello non è un livello si rienta l'otto tutto molto strano però questo è tv livello ah ok questo sarà tipo un livello bonus che devo portargli il cibo e eh non so cosa ho preso ah blocca il tempo ok vedi questi sono le cose che devo prendere così puoi posermare indietro senti ma se io non lo prendo poi mi rimane a ritorno magari devo comunque tornare indietro magari mi semplifico la vita al ritorno non lo so non lo so sto sto andando un po' penso che te li ritrovi già bloccati a ritorno appunto perché l'hai preso può essere prendi l'uno e tornare alla stanza e vedi è un po' complicato è un po' complicato prendere questo già non necessariamente questo ma anche prenderlo alla fine non è che mi cambia tantissimo però sì in effetti posso trovare mai non si rigenerano rimangono bloccati è una cosa che ti devi gestire secondo me che se a livello bonus di quelli facili magari ci saranno quelli dove sono le fai non si rigenerano bloccati esatto mi usa quelle cose per ok un martello che mi segue bene bello è che qua mi segna come se ci fosse un teletrasporto ma non c'è ma l'ho qua perché segna che c'è qualcosa sotto nella macqua ma ci si entra da sotto è una vita? cosa è una vita? una vite ah una vite no non credo che ci sia qualcosa lì perché ci posso entrare da qua penso sia un pezzo dello scenario in effetti era sospetto ma tornare indietro sarebbe stato troppo complicato no le vite sono quelle che devo dare a quello là da mangiare mi sa io uso queste ossa qui per aprire le porte per trovare le viti perfetto ho capito a che serve il timer le vite si danneggiano toccando questi cosi ah ah quindi devo stare super attento vedi? cacchio per quello dicevo io mi sembrava una cosa da prendere al ritorno adesso ha senso che storia vabbè ehm ma mi ha detto che li li devo portare tutti in una volta in un single trip quindi se volevo il bonus massimo dovevo prenderli tutti senza depositarli lì prima già e ne mancavano solo no qua c'è tutta quella strada che non ho esplorato è però interessante solo che non sono molto qua ah vabbè era abbastanza easy avessi saputo subito ok beh direi che posso anche andare qui c'è un teleport però non c'è mai niente vabbè non posso livello 4 il quinto è l'ultimo immagino allora sto cominciando a perdere vita ok ok Adana stai nuova Io avrei lanciato una granata in su Una granata in su Non si possono proprio lanciare verso l'alto Ah guardate Faccio un fantasia moneta e qua c'è uno shop Sto pensando se voglio usarmi ho un sacco di chiavi Mi conviene usarmi le chiavi non il volo Quelle note però si dirigono verso i nemici Potrei comprarmi il cibo per gatti Simpatico sarebbe stato meglio prenderlo a inizio run Ho 6 granate Spero di trovare cristalli Cioè no, sì In realtà sì, è distante Ahi doll Uh, beh, ok Sì La palla numero 8 che ti blocca i proiettili Sì Non capisco cos'è con la barra in basso a destra Ma non è inizio Cazzo Si dividono pure Beh così è molto più Boeing Boeing Jack 3 Ma praticamente si evolvono gli stessi Devo aprire il Cosa dei clown Giusto per tir Grazie Ok Che va infinite Ah Bello Sono i chiavi d'oro di Isaac Sì Cosa è un arcobaleno Non ho palesemente preso ispirazione Sì Ma lo farei anch'io C'è talmente tante di quelle belle idee E C'è un fail Quindi mi dà uno di questi Cosi che mi girano attorno Ok Che sono tipo Wisp Allora potrei usarmi una granata Però anche qua vuole una granata per la challenge Però io comunque le granate le ho Vuole una granata anche per la bomba Per la cassa Ok Cos'è che vuole qua Niente Non so se andarmi a fare la challenge Doc la barra viola in basso si è incrementata appena hai ucciso Quotizio nella stanza precedente Che sia l'esperienza Ma sembra tipo esperienza Però non mi sembra il gioco C'è un gioco dove prendi quanti esperienze Fichissimo Ok Ok buono So cominciato a pensare di essere al mio massimo di cuori Perché non mi sto dando più aumenti So cominciato a pensare di essere al mio massimo di cuori Sono proiettili che si dividono Ok Figo Buono Portano anche la cesta così Soldi Gratis Soldi gratis è una delle migliori combinazioni di parole che tu hai Aspettate raga sto guardando un film pubblicità non schippabile ora ci sono buonasera a tutti Buonasera Buonasera No è fede Ah ok Buonasera Bastardi Questo gioco è bellissimo ma la cosa dei clown mi turbarà un poco Che poi ogni volta che ti esce un clown cattivo devi continuare a riprovare finchè non te ne esce un po' Sembra No Non devo distruggere la cesta Aia Ma che si gioca di bello Nio Nabis Al momento sto facendo una ransom Ghost Baby Stile Isaac esattamente E stile Isaac a quanto pare Il vostro Il vostro gli ha risposto purtroppo Perché purtroppo No mi si è rotta la cesta No Che ti ridi fede E' un giro di prova non è che lo sto iniziando sia chiaro Oh la treasure Stanza degli illuminati Dark side Spicy candy Spicy candy Spicy candy Sponsore Non mi piace tantissimo Se dove essere onesto Non lo so Non mi ispira ad una cosa buona Io invece mi intrippo un sacco a guardare i gameplay di giochi così Mi è morto il gatto quello che si mangiava i cuori Il light bomb Si No Rip No beh sono giochi che vanno molto anche in termini di let's play Perché Essendo Generato proceduralmente Non sai Quello che può capitare alla gente Mi sa che ho finito anche sto piano Che mi manca La stanza questa qua Che mi faccio malentrarci E La challenge E va bene Le ho fatte tutte Facciamo anche questa Si sai un portafogli No Non ho capito Ho investito tutti i miei risparmi in tutto bene oltre rigola Aspetta Spiegamelo dopo Non riesco a seguire quello che stai dicendo C'è pure la cazzo di torretta che mi spara i laser Come gli occhi Già Aia Ma pure dopo che è finito Eh che cazzo Lo sai che ho ottenuto Weapon badge Cosa è Figo Si Dicevi scusa No che fede mi fa Si Hai un portafogli E gli ho detto no Ho investito tutti i miei risparmi in tutto bene o tre Lei l'hai aggiornato Ovviamente Su quella assurda interazione che hai Aspetta lo mando anche al boss perché Per Per la lore e perché lo deve vedere La lore Chiamiamola come No ho sentito dire che è sbagliato dire lore che dovrebbe essere lore però non sono sicuro Io ho sempre detto lore quindi nel caso Ma non ho idea onestamente Ma sta roba attivista Insta sniper ha Non proprio insta Allora potrei prendere uno star di shield A un weapon badge Però il weapon badge ho già visto cosa fa e mi piace Cioè Dai Si Adesso si Sono passato volutamente di qua perché tanto sapevo che c'era un altro mezzo cuore Qua Tanto appena finisco sta run e chiudo ovviamente Cambio gioco però Sta durando per essere Una prima run Vediamo come è Il primo boss L'aerogodess of make up Perfetto Aiuto Ma senza il volo come cazzo fai Non lo fai Muori Perdi si esatto Ma aiuto Mi viene in mente Lo shotgun per truccarti che aveva inventato I bigodini Mi seguo ancora per pochino che ho svegli alle 5.20 Non ti invidio Non ti invidio per niente Ma ho tipo una melenzana Sì Che poi svegli alle 5.20 per andare a casa mia Già fa strano Già fa strano Ho messo il continuo Per andare a ritirare la moto Per andare a ritirare la moto Sono al corrente Vabbè Andiamo Ultimo livello Boss finale Non lo so Anzi C Ah giusto Due chiavi Aspettate raga Ma non è che si muove Mas want a durista Rogue's badge Dove è questo Anch'io Ok Ma No Devo capire Questo rose badge Cioè Non lo vedo più Grazie While in this room In this room Penso che in qualsiasi stanza Intendo Spero Non lo so Non ho mia idea Mi stavo interrogando proprio sulla stessa cosa Aspettate raga Ho il signore degli anelli da guardare 4 ads da 30 secondi Io mission impossible E adesso burger king Confermo comunque che funziona Guarda adesso che ho raccolto un po' di monete Come mi muovo Ok si Che storia però Che ne spara Già Penso che intenda che è valido Solo per la stanza Si 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 Come quello la che mi aumenta Il numero di proiettili Quando ammazza i nemici Non ho capito cosa c'è Ah sotto Madonna torre che fisa dritta C'è dello stream Nella mia pubblicità Mi dispiace Se vi abbonate non succede Se vi abbonate non succede Purtroppo non c'è altro modo di non farlo succedere Twitch è particolarmente aggressivo con le pubblicità Già Lo è diventato almeno Due cristalli Ma si E che palle Ho cercato di togliermi tutto Però guarda Posso proprio scammare il gioco tantissimo Anche così E' difficile a vedere i proiettili nemici qui Che c'è Che tal No Crystal panda Ah è l'evoluzione del Dell'os Figlio No No La stanza Il combattimento adesso è a metà stanza Chi se lo aspettava Lo shop C'è 200 Vabbè C'ho detto Senti un suono strano Non venire da fuori Tipo Worst blowing Ah Ma Oh Che storia No Guarda che si fa in combo con le note musicali Aspetta Bellissimo Basta Tu puoi attaccare anche solo così Volere E' un po' scomoda A livello L'abilità Già Però tecnicamente si Adesso ce l'ho pieno La barra Lì comunque Ma adesso succede qualcosa Oppure una roba che Che posso attivare io E la farò dal boss In quel caso Vedete se ti dice come attivarla C'è un tasto che non ho ancora capito a che serve Che tipo l'abilità dell'eroe Penso sia quella Sto tempo Comunque ragazzi sono ancora una lanterna Eh lo so ti abbiamo visto ieri Immagino Sei fluorescente Neon Neon E' un tema Bellissimo Ma che ci serve il cuore? Serve Di da tipo Lì ci sono un sacco di soldi No? Ok Ma più che altro la mobilità che mi dà questa roba Per poter saltare Questi sono tutti i salti che posso fare Sono retro wave Finalmente Devo assolutamente scontarmi di nuovo 7 9 10 10 salti Mica madre Cosa che ha detto? Sono retro wave Finalmente Devo assolutamente scontarmi di nuovo Io non ho parole Non l'ho capita Ma la devi spiegare Lo stile retro wave Tutto a neon Tutto fatto tipo Stipola di qua Ah Ma che caos No Deciso di lasciarmi sono alta a terra per il boss Va bene Ho dovuto farlo prima Una cassa dentro una cassa Tipo la matricasse Tipo la matricasse E questo succede anche su Iser Già Si è trasplorato tutto? No Devo farmi una challenge E' saluto me la faccio direi Ho fatto tutto Facciamo Due Scusa E' nuovo Eh vabbè Che palla c'è di nuovo Uno di voi Però adesso posso quasi volare Ci veda sempre meno Sperdo il problema Ok Weapon badge Bene Forti Allora Adesso Visto che ci manca solo Prego Questo cosa Quando si carica Ti fa andare in questa stanza speciale Posso prendere il paper plane O il mic Prende il microphone Si Cioè io Queste cose Mi cura Ti deflettono I proiettili Amici Ma che storia Allora Devo prendermi tutti i cuori Magari vado pure al negozio A comprarmene uno E infatti Il negozio mi sembra che sia qui E' buono però Dal boss userò il volo Insomma Cosa mi conviene Prendermi la La tromba Che ne so Ho potenziato Talmente tanto Statua Questi non li posso aprire La meccanica del clown Non mi è proprio Chiarissima Quindi troppi clown A 0 su 10 E' il tuo voto No Il mio voto E' un onestissimo 7 su 10 Per colpa dei clown Perché se ne era tranquillamente Molto in mezzo Vediamo Argus God of Darkmen Bello siamo in Matrix Sul serio Non sono neanche così tanto presenti Clown No infatti Stavo prendendo in giro Comunque non posso usare L'abilità dei salti volando Sconfiggi il dio della rete Comunque ci rivedo molto Le meccaniche di Isaac Mi ha dato un life badge Che comunque non mi ha aumentato Gli earth container Non sei A massimo Ok Manager Ok Quindi è così che funziona La progressione Il prossimo Ragazzi per me è giunta l'ora Di farmi una dormitina Vi saluto Vorrei dirvi che sono stato Felicissimo Ieri di avervi visto E aver conosciuto il dottore A piacere mio Quando vuoi Buonanotte E la IBM La IBM La marca del Pentium E? Per esempio La IBM La marca del Pentium Uno dei processori Pentium? Un processore Ok grazie La IBM è tipo Il più grosso Pezzo Aziende della storia di PC Non lo so E pure finita la run Ottimo Un gioco carino Comunque Ciao Belle notte No Allora praticamente Stavo guardando un po' Come funziona Questi sono gli obiettivi Sono i manager Da sconfiggere Queste sono cose Che invece sblocchi Con queste monete Qua che ho trovato Man mano che finiva la run Quindi posso sbloccare Tipo la crema Si posso sbloccare Una stanza Le stasle secret Le secret O le ag Il Vabbè Ok Ok E questo Ah eppure Questo mi costa 10 Sbloccare un personaggio nuovo Piano Piano rum Questo mi sa Di il sacco carino Sblocco lui E poi Devo scegliere Tra bomb Piano rum E bloccata Devo fare Una di quelli Adiacenti La clou machine Ok Però tanto Non le vedremo Questa volta Torniamo al bar Tra l'altro Mi sembra Quasi Quello di Devil May Cry Il protagonista A vederlo così No va bene Basta No doc In 2001 Dissi nello spazio Il computer di bordo Si chiama Hull Che sono per ognuna Lettera Prima di IBM E se ricordo bene L'avessi sponsorizzato In qualche modo Ah si? No Non la sapevo Questa cosa Credevo che Hull fosse Un acronimo C'è solo la storia Si Ok Niente multiplayer A ver Il Meat Golem Ma non ho capito È tipo Un prequel Sta costruendo Il primo post di Super Meat Boy Non mi ricordo Come si chiama Slaughter qualcosa Tutorial Ok Mi piace l'interfaccia Carina Si Ok Meat Boy Clones Dash Rotate Slow down Speed up Ok Dash è così Vabbè Ok Così rallento Ok Va bene Mi dice Dove Atterrera Ah Dash è per muverti In fretta Ok 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 Più o meno Ho capito Ma non moltissimo Ok 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 Vabbè Fin qui tutto ok Ah ecco già diventa più complicato Eh già No Meme di Sponger Caro vecchio Tetris nessuno ti batte Ha detto il boss Sì in realtà stiamo parlando più nello specifico di Puyo Puyo Però sì Alla fine è grazie a Tetris se esistono tutti questi Non ho capito quella cosa dei cosi a destra Onestamente Non mi è molto chiaro No Cazzo Sì sì È bello che è rimasto un occhietto di sangue Già ho in Super Meat Boy Ok Però non mi è chiara quella roba a destra Semplicemente Ok Ok This is science and science is pain No No D'accordo A quanto pare è così che deve essere Ah il lato del prossimo Sì Non l'avevo notato però ok La mia idea era che tanto adesso lo libero e quelli lato con baciano tutti Tra l'altro mi trema il joypad ogni volta che fa una chain Ah Sbagliato ma Sbagliato ma va bene lo stesso Perché siamo all'inizio Sbagliato ma va bene lo stesso Vabbè sì questo era anche ovvio Sbagliato ma va bene lo stesso C'è un po' così Così Probabilmente dovrei guardare lì a sinistra Siamo ancora nei tutorial Sì Ah non lo posso manco Ah sì lo posso spostare morendo Però è giusto per farmi delle Lezioni a catena Ovvio lo sarà per te che sei studiato Beh sì ho giocato puio puio già Allora Then change your next few moments of invincibility Ancora dura Credo che la soundtrack sia dello stesso di Isaac Nuovo Quindi No Ma la sono giocata molto male Voglio vedere se l'inverto che succede Ma dovrebbe funzionare uguale No Sì Sì però in ordine inverso No non era proprio No non te l'ha contato Già va bene lo stesso comunque Ciao 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 no vabbè in qualche modo farò lo stesso a volte è dagli errori che ti crei la possibilità di fare ste robe oh no no beh adesso possiamo fare questo è il primo capitolo The Forest ufficialmente abbiamo il primo livello benissimo ok ah bello se lo finiva in 12 secondi prendeva più un po' tanto da chiedermi credo ok è strana questa idea del miscuglio di questi elementi ho provato a farlo non ho mai giocato un gioco che avesse questa meccanica nemmeno io quindi ti capisco ho giocato a tanti puzzle game ma questa meccanica qua è abbastanza che ansia si abbastanza cazzo è che te lo devi proprio pensare con largo anticipo posso guardarle qualcosa dalla cucina? no 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 appena arrivo a quello dopo è sempre un casino oddio è vero se lo rompe dopo non fa niente non puoi impilare oltre il secondo blocco in basso? dal basso anzi si in che senso per vedere se l'Italia come adesso? non ho capito se ho una domanda tra l'altro non c'era nessuna domanda non c'era nessuna domanda comunque già non mi sta piacendo più mi sembra un elemento di stress che non ci vuole senza contare che poi ti impedisce di andare avanti in quel caso ma dai ok devo lavorare esclusivamente sulle linee di sotto ho messo un po' a capirlo devo ammetterlo no ma l'aveva detto che se un ostacolo dello scenario colpisce qualcosa che hai già depositato non succede niente così merda però ok si faccia una chain combo baby ho sbloccato... ah si perché facendo le combo diventano invulnerabili però è stranissima anche sta meccanica proprio stranissima no 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 senti ok 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 sta mandando a male sta cosa ok questa è una chain non cazzo perchè è finita il livello scusami ok ok e ammetto che è intrigante non so se è abbastanza per piacermi ma è intrigante cioè come fare un puzzle game con un tizio che continua a romperti i coglioni nel mentre no doppio no è tostissimo va contro ogni ogni mio istinto di risolvitore di puzzle game ci ho provato a salvarlo ok questa è una chain eh si fis vets fis vets cosa buonasera ma porca puttana ma è assurdo ecco appunto premio originalità senz'altro nooo 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 bu cosa non so che cosa vuol dire fis vets non è nella mia lingua natia è stranissimo però sto cominciando a capire aspetta io faccio perfetto no non è ancora finito però va bene attenzione così 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 e forse ho finito no 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 merda è stracattivo come gioco proprio come idea come violenza psicologica che fa ok ma arriva a toccare arriva arriva complicatissimo puttana la miseria qua caccia la miseria caccia la miseria caccia la miseria così così sta acquisendo tutto molto più senso no 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 si chiaramente no le ho messi male no le ho messi male dai ho fatto una chain penna perchè non mi è utile una minchia al momento magari più avanti non so cosa è cambiato ma la situazione è sicuramente peggiorata da sotto pure adesso finita la fase finito il livello martello argentato di marzo non so ha tutto molto più senso con i sacrifici umani ma non sono umani sono cloni c'è quants enabled e questo è il primo mondo eh non so se vi stanca ditemelo che cambio che ho altre perle in servo per voi anche anche non necessariamente belle ma magari hilarmente brutte sacrifici inumani 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 No, no, dai muovetevi. Eh, sbagliato. Uh, questo è un checkpoint, ok, buono, no, faccio questo checkpoint, faccio così, benissimo, così sì che funziona, l'idea dei checkpoint mi piace, ok, direte grazie al cazzo che ti piace, ti semplifica il gioco. Ah, inumani? Ah, non avevo capito che fosse un'altra persona, perdonami. Altre belle non necessariamente belle. Eh, oh, non so se mi volete vedere prima di arrivare al primo boss. Cioè, comunque è bellino, eh, non dico di no, anzi, ora che sto cominciando ad entrare un po' nella meccanica lo sto apprezzando di più. Per quanto sia molto astrusa la meccanica. bene. Eh, vai a fare un culo. bene. Bene. Benissimo. bene. in coppa al boss preparati ho tolto il cappuccio io l'avrei tenuto si sa mai sto facendo un po' adminchiam ma neanche troppo ma sarebbe che il gioco collaborasse un pochino di più con le cose che mi da ok tipo questa è una buona cena direi il signor brodo chiede se hai finito posto no sto giocando il dlc paradise lost per ora ho finito il gioco base e l'apocalypse weekend quello si no ho sbagliato beh mi fari cominciare da qua no il postal che ha finito il doc no puttana la misera così lo volevo fare così non è buono quello che ho fatto petto dimmi e non ci passa maledizione troppo grosso non ci è questo è quello che mi sembra già perchè no cioè petto dimmi ma chi è che ti scrive brodino allora devo fare così e così però non c'è il tempo c'è scomodissimo comunque poi faccio così poi dovrei fare così meglio fare così meglio fare così poi ma un rosso no vero? ok petauro un bel atroce petauro adesso lo picchio devo fare devo fare sono a metà del primo mondo cioè dovrei no no che ansia sono cercando di capire se la musica fosse di Super Meat Boy ma mi sa proprio di no e scusami no eh non si però dai è un po' atroce ho il talloncino della maglietta che mi impedisce di stare sereno dice il boss brutta storia sì ne sappiamo qualcosa già senti o peto io sento se tu dici qui no Meglio Molto male Butta dentro Federico dai Se n'è appena andato sei tu che eri ritardi Vero confermo Ho fatto una cagata però ok C'è manco un cazzo da commentare In questo gioco Sono io che sto sudando freddo e basta Oh ho sbloccato una cipa Comunque è strano perché alcuni livelli mi vengono molto più difficili di altri Non credo che arriverò fino al vostro onestamente Cioè è bello ma abbiamo capito Già Non c'è molto altro Che posso Cioè magari aggiunge meccanica ma ci vorrà sicuramente un po' Ci sono gli stessi livelli di Super Meat Boy Chi è il pelato che gioca da Isaac? E questo no Northern Lion è il pelato che gioca da Isaac Come il pelato No perché Brodino fa Il boss fa Brodino mi stai dicendo che ogni volta che hai iscritto c'è stato un suono d'accompagnamento Senti Hypnos io eviterei di fare tanto Adesso leggo io dai Qui splettito Già partiamo bene Non posso premere Ma no ma mi ha aperto il browser Ma che schifo di menu è Non posso tornare indietro Select Start Type Slow Search and Solve Fast Ok Fast è bloccato Quindi Horror sarà bloccato In un gruppo tipo Ice Whiteshot No al gruppo di Isaac No ma Ditemi che non siete saltati Alla vista di questo Io sì onestamente Comunque sì lo potrei mettere un Castlevania Sarei più interessato a Qualcosa Qualcosa che non ho Ancora avuto modo di giocare Un gruppo di Isaac nudi No Sto ancora caricando eh Beta è saltata alla vista di questo Beta è saltata alla vista di questo Beta è saltata alla vista di questo Beto Allora, se sta caricando così tanto, deve essere per forza un giocone della Madonna, sarà tipo The Witcher 3, però più grande. Il caricamento promette bene, ti ho detto. Neanche giochi moderni hanno caricamenti così lunghi. In battuta sì! Ibn? Ibn Battuta. È un gioco orribile indiano che abbiamo giocato anni fa, è tipo il clone indiano di Uncharted, si chiama Unhearted, Trails of Ibn Battuta. È orribile, ti giuro, praticamente c'è un combattimento alla fine che io vedo che se gli do un calcio lui va oltre il bordo e allora cominciamo a volare. Sì, insomma, non è The Legend of Braz. Sì, ma questo qua è ancora peggio che fermo al caricamento. È questo il gioco in realtà. The Witcher 3 Kingdom carica più velocemente, ma non è normale che carichi così tanto? Si è impallato. Tu dici che si è impallato? Sì. Sì. No? No. Quando tutti credevano si fosse impallato? In Uncharted non risolvi gli enigmi con le macchinine telecomandate. Perché non ci sono sottotitoli? Perché non riesco a mettere le opzioni? Perché c'è un enorme quadrato nero che mi impedisce anche di uscire dal gioco. Immagino che la storia interessi a tutti. Dobbiamo sapere dove andremo a finire. Egitto, vabbè, posso. Ormai se dentro, sì, non puoi più pisci. Comunque io con 50.000 lire ve la faccio meglio questa scena. Che ha David Attenborough? Che è questo lavoro di magica? Questo desiderio strano che resta lentamente sulle salle di tempo. Beh, è vecchio sicuramente come il tipo che sta narrando. No, non credo. In realtà stava caricando solo queste scenette. Ci siamo. Madonna, che brutto. Stavo cercando il narratore a chi fosse. Ma sfigurati se qualcuno sa che cos'è questo gioco. Sì, infatti sto vendo a piccicolare. Ha pure un titolo super generico, quindi... Cioè l'unica cosa che posso fare è sbattere... Io sono sempre più confuso. Il sosia indiano di David Asselhoff. È quello che commette i documentari della BBC. Oddio, questo sembra poser. Questo progetto. Io ho detto progetto. Mi sembra che mi stia dando informazioni completamente a ca... Ok. Mi sa che siamo finiti in quella parte brutta di Steam, di nuovo. Oh, è un gioco per VR. Ma veri figli in VR? Non credo. Se mi sta dando l'analisi adesso... Figurati in VR. No, ma non si... Ok. Credo che sia un gioco alla Isaac. Ma mi sento veramente tantissimo confuso. Cioè magari sto facendo il tutorial. I oggetti rossi li puoi distruggere con i proiettili. Molto meglio di AES. Sì. A tal proposito, prima ho giocato a Neon Abyss. No, ma è stranissima la grafica. Non si vede praticamente un cazzo. Ci sono le outline di dove devi andare. È tutto sempre più strano. Doc, qui i programmatori hanno fatto copia e colla da Stack Overflow. Dice il boss. Dici che è quello che lo fa andare così male? Sembra noioso Neon Abyss, dice il bloggino. No, è carino. Sì, mi è sembrato carino. Niente di eccezionale. Però mi aspettavo peggio. C'è già delle cose simpatiche. Closer. Closer. Quanto closer! Closer! Cioè io rompo le cose per sentirmi. Sì, però i proiettili. No, non ci sto capendo niente. Cioè se... Come Joshua Reddy. No, non ho capito. Scusami, come? Come faccio? No, non ho capito. No, non ho capito. Closer. Closer? C'è una canzone di un certo Joshua qualcoso? È una canzone di questo Joshua. Il tuo brodino, infatti. Ma perché deve essere così confuso? Press G? Perché è un tutorial, vabbè. Questa è la posa da lancio granata. Con entrambne le mani protese in avanti. L'avevo detto io che ci aspettava qualcosa di magico stasera questo gioco. Sembrava proprio brutto, ma... Come il 50% di carne e cose. Ma perché ci sono i centurioni romani che io ho la pistola? O magari le pistole sono le antiche arpi egizie. Le battute di Brodino sono sempre più criptiche. Già. È un backflash, dice il boss. È un flashback. Centuoli di sto cazzo, saranno 7 o 8. Senti, io l'ho schippata comunque. Trovo il segno dirò. Find the key, tu open the portal. Press 1, 2 attive. Ma che cosa? Cosa è attivato? Non si sa. È super confuso. Oddio, Lanck, ora puoi rivivare. Sì. Perché dovrei rompere il muro? Non posso fare il giro. Sei d'arma. Minchia, 5 minuti che ci gioco e già lo odio. Semi cheat. Ma cosa? Guarda Giovanni e Giacomo. Minchia, 5 minuti che lo conosco e già lo odio. Non c'è il mini attack. Non lo so, non me l'hanno ancora spiegato se c'è ma... Mi sento troppo sbagliato a distruggerlo con la pistola. Sì, è vero. Come on, light the fire. Come Jim Morrison. È tutto sbagliato. Sì. Non lo so, veramente mi sembra un gioco... Sbagliatissimo. 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 Scorre che è un piacere. Sì. Non vedi errori, sicuro che non mi vedi? Ma dai. Ma ti prego, ma... Ok. No, è che era un wisp, capito? Quindi girava attorno. Gioco. In questa casa si assorbrano le leggi della termodinamica. la fiamma distorta sto cominciando a pensare che forse dovrei provare a interpretare la mappa anzi la fiamma di lato ma pure sta roba c'è io ho masserato il latino ma come perché avrei fatto il classico non lo so vabbè no ho sbagliato ma il dono delle lingue doc dice il boss già l'unico passo dove mi fa entrare questo che dice che aumenta la difficoltà la musica è anche bellina ma anche secondo me l'hanno pagata la grafica non vorrei essere stronzo ma mi dà l'impressione che abbiano riciclato degli asset in vendita gratis si ma dico queste sono cose che trovi già in dei pacchetti precostruiti mi sa magari mi sbaglio che non ha personalità non si vede si vede a malapena l'ambiente rod flanders quando ha la febbre ah si che è il dono delle lingue ok non ho soldi per prendermelo sono rimasto bloccato non capisco quello che succede doc di la frase sulle tombe dopo questa tomba un'altra tomba manca un'altra tomba cioè tutte le porte aumentano la difficoltà le caccatombe ho capito come frantumare le cose allora vorrei far notare comunque che abbiamo una pistola ma l'unica cosa a cui stiamo sparando sono i vasi emozionante ci capisco sempre meno questa questa accenditi vabbè io so vabbne amurne 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 il gioco sa frantumare anche volevo dirlo io ma non volevo essere capito si di me grazie vabbè mi pare vanno e vittor su la quindi questo siamo noi è qualcosa che gira al centro e carica una cosa ho fallito è presente per Britney Spears si oh beh Brodino se ti è stancato possiamo anche cambiare il gioco io non dico che mi sto divertendo dico solo che non sono senza parole di fronte a questa cosa continuo a sbagliare tasto perché continuo ad avere dei tasti sbagliati il gioco prima di tutto lasciato perdere che non so perché dovrei trovare delle granate qua non so perché fa questo effetto qui non capisco che cosa succede è super confuso l'interfaccia è incomprensibile decidere agli altri io ho già deciso lui vuole continuare a vedermi soffrire soffrire su questo immagino sentiamo cosa dice il boss il boss aveva detto Castlevania già io so che è d'accordo con il boss ma vediamo se quale Castlevania ho io anche avessi proposto presuppongo ci sia un continuo ma mi sa a proposito di continuo mi sa che siamo arrivati non riesco più a dare avanti no ho già deciso prima quando ho chiesto di cambiare il gioco ho detto Brodino notaria hai sbagliato intonazione io anche avessi proposto senti no ma io non ho parole ho sbagliato ancora aiuto fascista è pure analfabeta da quando sarei fascista scusate beh dal momento in cui sei sei anni ah già sei una privilegiata sei uno strumento del sistema che sarei io allora terribile ma è terribile ma come l'exton reveal non ho fatto niente ti sei solo incastrato non l'ha fatto lisa non l'ha fatto e aspetto un momento non l'ha fatto ma puttana la miseria ma che schifo di gioco è prigimeggiata no prigimeggente vedo il futuro prevedo prevedo che il doc cambierà gioco a breve ah ho capito privilegiata no sono tutto su archiileggiata almeno credevo di aver capito di dover lanciare la granata che brutto rumore ma è tutto brutto si anche il rumore delle granate è sbagliato ok ho trovato come andare avanti mi spacca le orecchie aumentato il livello del fucile ma ci sono dei nemici io volevo vedere magari se c'erano dei nemici oh la tomba è instabile no secondo me è tutto il gioco è instabile si oh no si sono dei nemici senti ma l'ha fatto qualche ragazzino alle prime armi ma cosa wow se non sapete che è infusa capite perché non lo sto togliendo a giocarci è molto peggio eh immagino bello mi è incastrato nel muro già ma poi la mira ci sposta di lato ma che cazzo è che uno abbia tentato di fare una sottospecie di rincuro dell'arma si ma non si fa di lato il rincuro non capisco come questo gioco abbia potuto superare l'integration test dice il boss si non so neanche se è in early access ma senti a parte che è molestissimo dal punto di vista sonoro già capisci per quanto ho tolto le cuffie si beh tu sei particolarmente sensibile ma è brutto anche per fare una persona qualsiasi ma sei passato attraverso il pavimento e ho perso una vita non so se c'era una trappola quante vite ho ancora troppe no voglio capire neanche fossi indiana jones non veramente ma di nuovo spero di non averne 234 no voglio capire se 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 cado attraverso il pavimento oppure se c'è un senso ce l'avevo qua e poi qua che cado perché c'è un buco è il buco di prima l'avevi tenuto la primissima volta tu la vita a zero non la vedi scusa eh non stavolta ma siamo diventati una mummia così stantaneamente ha riciclato la stessa la stessa ammazione di prima praticamente ma non mi ficato ancora ancora la questione c'è se io clicco no fa così ragazzi basta calmatevi basta 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 la mugna marge simpson quando accende spegnerà luce in caso prodino non afferrasse no è terribile è fatto coglioni terribile veramente questo è comunque un gioco terribile è terribile il fatto che praticamente questi tre tasti mi portano mi apro nel browser questo non funziona che sono le opzioni e questo è per chiudere e poi c'è niente tempo of the temple of new temple the temple of media non lo so che è tutto sbagliato ma guarda non sono mai stato più sicuro di una cosa in vita mia c'è norma lard e kids ha ok ho capito che genere il gioco è chi è proprio brutale dai già è arcanoid però in orizzontale però tu sia contenta della tua scena non è tra i miei generi di giochi preferiti ho spesso difficoltà a prevedere la pallina no io ho difficoltà no però un'intusione ce n'è uno molto bello su questo stile che si chiama shutter lo consiglio vivamente se uno cerca qualcosa appunto una versione moderna di questo concept oh raga un'idea pazzesca ruotiamo arcanoide di 90 gradi genio si brodino ma che ne pensi del gioco di pinocchio il bloodborne di pinocchio la palla si è ingrossata that's what he said altre frasi da non dire fuori contesto next stage c'è scritto nel caso vede che non riesce a colpire l'ultimo coso oh ho sbloccato un achievement che achievement sembrava affascinante da vedere beh a te che piacciono i souls no un achievement perché ho skipato uno stage che è successo però il gameplay è tutto da vedere eh io ci ho giocato più di un'ora un paio di live fa me l'aspettavo molto peggio cioè non me l'aspettavo fatto così bene in realtà poi ho difficoltà a dire se poi effettivamente vale la pena perché sono un coglione perché non sono assolutamente così ferrato sui souls like ma in particolare non ho mai giocato a bloodborne però posso dirti che mi ha tenuto comunque incollato per abbastanza tempo e la demo è durata cioè non sono arrivato a finirla comunque tra qualche giorno lo dovrei pubblicare sul canale sto cominciando finalmente a riaccumulare un po' di di backlog beh io direi che gioco fin quando non finisco le palle ne ho ancora 4 c'è da ridere sono palle letteralmente sai che conoscevo gente non proprio della mia generazione diciamo una decina d'anni più grande che tendeva a chiamare le vite dei giochi palline abituata con i flipper è una cosa molto interessante a te è capitato? mio padre su alcuni giochi diceva pallini ok mio padre totale il cerco della schiena back backlog backlog perfetto dovrei iniziare anche exen comunque non so se valerà bene iniziarlo in live se qualcuno è curioso abbastanza da volerlo bello miglior power up possibile in questo tipo di giochi no 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 palle mega palle mega palle speed up no dio era lì scommetto che è molto bello da giocare ma da vedere è un mezzo strazio cosa? forse è tutto questo exen o questo? mi sa che sono arrivato a una boss fight no non è una boss fight è solo un altro muro ah no è solo un mucchio di stracci arcanoid storto questo beh sì nel senso non è che sia bello da giocare è esattamente ciò che ti aspetti che sia exen exen guarda per me lo posso anche iniziare appena finisco qui però pure brutal doom dox guardi che lasci fare vero che esiste brutal doom praticamente mi sto dando un po' ai boomer shooter da quando mi sono innamorato in quel modo di wake ho pensato che dovrei recuperare tutta la roba di quegli anni lì in prima persona spara spara palle 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 ovunque palle di fuoco svedesi allora il problema è che ti arrivano i detriti è un casino perché te li confondi si devi tenere d'occhio le cose non dico tutto ma almeno quello che viene verso di te devi saperlo ma cos'è io exen ci ho giocato un pochissimo ma quando ero piccolo e non ci ho capito molto cioè non mi ha preso bello queste sono le cose belle di questi giochi che però poi ti fottono ti fottono perché vedi tanta roba da raccogliere ma vabbè compreso tu roccone nazionale no io per boomer shooter intendo cloni di doom cloni di quake tu rock non è proprio tra i giochi per me imperdibili ma tra l'altro l'hanno provato a fare un revival di tu rock o ricordo male e ha fatto schifo cioè è una di quelle cose che se non lo fanno cioè se non l'hanno già fatta la faranno a un certo punto perché shadow warrior nazionale ecco shadow warrior è un altro che vorrei giocare assolutamente assieme anche a rise of the triad eh si shadow warrior penso che sia meglio cioè no meglio che sia più importante exen cioè mi piacerebbe comunque andare più o meno in ordine di uscita non saltare da una parte all'altra eretic è stato figo anche se alla lunga cazzo è continuo a caricare di nemici mi sono un po' rotto i coglioni ne avevo uno per la xbox 360 tipo nel 2008 faceva cacare o meglio shooter senza infamia nell'ode ma non c'entra nulla con tu rock ok beh sì allora quello è il revival di tu rock beh penso che a un certo punto ne faranno uno quel genere di franchise che ogni tanto qualcuno può dire dai compriamoci i diritti e cerchiamo di riportarlo in auge per poi fallire miseramente e dimenticarci della sua esistenza per un'altra di dieci anni bonus bollo c'è scritto mi ero fatto lo scaffale a parte con giochi tarocchi in che senso quindi è buono quando si allarga ma non quando si restringe non ho detto niente l'hai pensato no non l'hai pensato no non ti credo e non credermi c'è qualcosa che non va se non l'hai pensato non funzioni come inteso non funziona dai che non riesco ad acchiappare i mattoncini youtube dai no però la clemenza di avere il coso che ti fa schippare il livello l'apprezzo si e poi questo gioco non è c'è questo gioco che questo ha copiato brutalmente non è difficile di suo lo diventa quando devi fare gli ultimi cosi più che difficile secondo me diventa proprio un impuro beh sì ti aumenta le chance di sbagliare a un certo punto non vai più avanti la tecnica di muoversi contro il nulla funziona anche qua vedo scusi eh ecco io preferisco quella gravità classica verso il basso ma questo è tipo squash e mi ha sempre fatto paurissimo quello sport perchè? cosa preferisci quella graffina classica? non lo so ma in questo caso eh sì pensavo che l'avesse detto Brodino ma Brodino ha detto una parola di squash non ho capito un caccio no non è sempre chiarissima la posizione della palla no comunque shutter quello che dicevo mi pare che pure fosse in orizzontale quindi manco hanno avuto l'ideona loro boh questa circa non lo so succedono cose brick breaker sì non importa non è così importa coglione sparo e non stavo sparando dove dovevo sparare finito il livello ho le ultime due palle ne farò buon uso dai 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 non ho capito cosa ho fatto block wall diceva ti sa che se la pallina ti rinvanzano va vero c'è un muro dietro dietro di me eh sì io penso che se vuoi proporre un clone di arcanoid oggi come oggi devi avere un po' più di fantasia di così non si capisce un cazzo no ok quellina pure che cambia colore uuuu bello vigo ecco perché cambia da colore è uno dei miei power up preferito è quello della palla che non rimbalza ma perfora di buonanotte gente e buon proseguimento buonanotte buonanotte ci sta ci sta che non sia il massimo neanche dell'entusiasmante sta roba però ormai ormai sono qui finché non finiscono le palle sono anche le due e mezza di notte eh quindi ci sta che qualcuno vada no no ma ci sta assolutamente però mi rendo conto che magari il tempo potrebbe essere meglio speso di così ma ormai ho quattro palle finché avrò quattro palle cioè finché mi rimarranno delle palle io continuerò cos'è questo? ah no boll ora ne hai cinque bolls 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 ok saluti grazie grande ora questo così ok iniziamo bene radon break uh ma puttana la miseria per poco non non direi solo cioè neanche che sia un brutto gioco perché non lo è è semplicemente un'idea trita e ritrita riproposta senza nessun particolare twist alla formula cioè tutte queste cose penso che le abbiano fatte tantissime altre versioni ufficiali e non di arcanoidi io non so quali power up ti ripiccioliscono se no non li prenderei proprio e di nuovo due palle già come dio intende ok allora il quadrato giallo ti allarga mi sa quello arancione dove ci dice nel casino generale non ci ho fatto caso vedo roba che mi viene contro la raccolgo sì sarebbe bastato farlo di un colore rosso per esempio magari lo è io ho capito solo che questo ti dà la pallina che si attacca questo arancione questo ti fa sparare sì che è la cosa migliore quello che ti fa sparare perché non devi manco usarla la pallina fai così fatta è finito il livello raggiunto il livello 10 ho preso una shipment per questo la shipment dovrebbe chiamarsi stai ancora giocando? wow fumate fumate non state ancora fumando ma proprio per la gioia di grandi e piccini dio cioè è comunque competente come gioco non è che dico che non funziona quello cioè a differenza di tanti altri giochi che abbiamo provato non è pagato non ha pessime scelte di design oddio magari fare che i detriti non vanno verso di te sarebbe una buona idea tipo si fermano prima molto molto prima però non è così così un problema tutto sommato credo mi chiedo quale sia la differenza tra una modalità e l'altra il numero di palle probabilmente secondo me anche di dietriti cavoli mazzi game over finito le palle beh dai c'è il mio high score qua sotto non c'è il tasto per uscire ma guarda vediamo questo storytelling beh ho visto di peggio dai almeno i disegni non sono male magari un entai quel conto mit possible dagli screen sembrava molto più bello sì ma in che senso no ah 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 oh no ma è Flappy Bird oh crimine perché ho capito fammi andare avanti sì io andrei buonanotte buonanotte ah non devo cliccare next devo cliccare sulla scritta che non ha senso già notte non ci sto capendo niente maledrio ci devo evocare la principessa non ho capito allora è veramente spiegato male e continuo a interrompermi non riesco a capire niente io non so se tu ti stai rendendo conto eh ci dico già a prescindere perché questo è un gioco di merda che non si sa spiegare perché il problema è che non si sa spiegare beh in primis perché poi potrei giudicare il gioco se riuscissi a giocare non mi ricordo più neanche quello che stavo dicendo perché se mi mi stava dicendo roba qui ma mannaggia a me che ho fatto il tutorial guarda the temple of era più interessante sì per quanto molto più orribile probabilmente ah devo collezionare le rosse senza le blu ok qual è la di chi questa allora da giocare è peggio ancora che da guardare no ma immagino non sto capendo proprio quello che sto facendo nonostante sono nel tutorial ma che vuol dire perché devo premerli per fare cosa ah devo premere quando me lo dice per fare cose mi chiamare beh è terribile ma non è vero io li sto premendo eh questo riesco a farlo l'altro non ho ma chi cazzo è l'alano no è un disastro è solo una domanda eh perché esatto chi è ci sto capendo niente non ho capito neanche il genere di gioco Myth possible cosa è successo? ho vinto ho finito il tutorial ma come? ok quindi questo è il gioco ok quindi questo è il gioco ho capito solo una cosa che devo raccogliere le ceste di fila minchia questo è uno dei giochi più brutti che io abbia provato no vabbè io non lo voglio fare punto scusami ma possibile che non c'è una singola abilità di questo gioco che si capisce ah ho capito ho capito ma è brutto basta già l'odio quanto ci ho giocato non lo so non si può manco vedere perché tutto subballa no terribile ma non ho capito tra l'altro se no dai non è che mi chiede soldi veri no almeno quello ma magari è un gioco mobile che su mobile ti chiede i soldi veri non lo so non riesco veramente a darmi una spiegazione è confusissimo dal menu al gioco tutto si capitoli 1.0 capitolo 1.5 tra l'altro ma poi back più start per uscire vabbè